Sono Laura Iubatti, segretaria dell'Associazione Donnè di Ortona, nonché rappresentante del Centro Antiviolenza Donnè insieme alla Presidente Francesca Di Muzio, Marina Di Virgilio Vicepresidente e Sara Di Lado Consigliera. Abbiamo partecipato quest'anno all'evento mondiale della Conferenza Mondiale delle Donne che si è svolta a Milano dopo 20 anni da quella prima conferenza di Pechino per presentare un importante progetto della nostra associazione Donnè Workers, rete di impresa contro la violenza di genere. Il progetto è nato prevalentemente dalle stesse donne che si sono rivolte al nostro centro. Dal 2012 ad oggi sono stati oltre 100 i contatti, oltre 100 le donne che si sono rivolte presso il nostro sportello, che hanno raccontato le loro esperienze di vita e che ci hanno fatto comprendere come la mancanza di lavoro sia purtroppo un tassello fondamentale della loro permanenza all'interno del circuito della violenza di genere. E quindi abbiamo deciso di presentare questo progetto per far sì che le donne vittime di violenza che si sono rivolte al Centro Antiviolenza Donnè e augurandoci anche altre, possano trovare un lavoro all'interno di realtà imprenditoriali del territorio e anche nazionale. Quindi il nostro invito oggi è quello di far sì che le imprese territoriali ortonesi, regionali e nazionali possano contattare il Centro Antiviolenza Donnè affinché noi possiamo presentare questo importante progetto e affinché le donne possano trovare lavoro e quindi avere quell'indipendenza economica che le possa aiutare ad uscire dal circuito della violenza di genere. a badare a vedere chi lì in...